quella che state ascoltando si chiama charlotte carden ed è praticamente il disco proposta di questa settimana del boulevard rovigny che ha scelto per voi la chiarella una voce rubata al jazz classe 94 veramente giovane voce calda importante del chebec quindi di voce francese però canta perfettamente un inglese questa canzone che è un singolo in realtà uscito già da un po di mesi a settembre ha un suono speciale e carico e di grande potenza mi piace davvero ed è molto sofferta e non ho ancora deciso in realtà cosa lei mi ricordi perché forse la voce calda da jazz può farci venire in mente Amy Winehouse piuttosto che Diana Krall però lei è anche una che fa tantissimi progetti elettronici quindi è una voce molto flessibile infatti il pezzo è decisamente energico e sta bene anche sulla nostra M2O lo potete ascoltare on air tutta questa settimana perché sarà il disco proposta del boulevard rovigny scelto per voi dalla chiarella andate online sulla pagina facebook di charlotte carden e fatemi sapere cosa ve ne pare lei tra le altre cose giusto perché la voce non le bastava e anche un ex modella un ex modella di un certo livello e devo dire che si vede anche se nel video che veramente ombroso e scuro lei guida una macchina un po arrabbiata senza trucco sofferto perché la canzone insomma un po triste dice don't leave anche su quella di M2O la chiarella vi aspetta al boulevard puntuale lunedì da mezzogiorno un petit bisou la chiarella e poi ciò che si vede anche se nel video che si vede anche se nel video che si vede anche se nel video